Ciao a tutti! Oggi andiamo a fare dei test di un prodotto per fare sfeltrire dei capi. Alcuni sono in condizioni disperate, ma facciamo un po' di prova e vediamo che cosa succede. Ho messo questa gannottierina che è in delle condizioni pietose. Ovviamente mi sono scordata di farvi vedere prima, ma praticamente quando l'ho presa mi arrivava normalmente sui fianchi e adesso mi arriva sopra l'ombellicolo, è super infeltrita, io non credo che nemmeno un miracolo la possa salvare, però se facesse riguadagnare come c'è scritto sul prodotto almeno una taglia sarebbe un pochino più portabile, quindi io la tento. Ok, se ignorate il casino devastante alle mie spalle, vi volevo far vedere che ho rinnovato anche questa, che è la nottierina in lana che avevo preso su armadio verde. Questa è la magliettina dopo il primo trattamento. Allora, secondo me il tessuto si è ammorbidito e ha fatto tutti questi filettini così che prima secondo me erano tutti accartocciati all'interno delle fibre essendo infiltrita. la taglia mi sembra ancora un po' piccola rispetto a quanto era originariamente, ma c'è scritto anche sulla confezione di tenerlo più di una volta, cioè di far più di un trattamento, quindi io credo che ripeterò il trattamento almeno un'altra volta, vediamo se si allarga un altro po' e poi soprattutto la devo provare addosso. Questo è il risultato dopo il primo trattamento, come vedete è ancora un crop top, però è più morbido, quindi secondo me di taglia non ci ha guadagnato un granché, però si è un po' ammorbidito il tessuto. Proverei a fare un secondo trattamento a sta cannottierina, quindi rimetterla dentro la bacinella con il prodotto sfeltro e vedere se si allarga un altro po'. Ho trovato anche un paio di sciarpe, vorrei trattare che sono in condizioni molto meno drammatiche di questi e quindi poi proverò a metterci anche quelle cercando di fare il prima e dopo. Allora, qua abbiamo la sciarpa che voglio provare a mettere in sfeltro, non è una situazione drammatica, ma vorrei provare a ammorbidirla un po', tra l'altro questa è una bellissima sciarpa fatta a mano. E infine voglio provare a mettere questa, che invece è bella ammorbidina, anche un po' peluscio setta, però anche questa dopo un paio di anni di utilizzo, forse questa un po' meno. Anche questa mi sembra un po' compatta, non so come dire. credo in un lavaggio, un qualcosa che va un attimino a distendere le fibre, che sono un po' stressate, secondo me, non è male. Eccole qua in ammollo. Ciao sciarpe, ci vediamo domani mattina. Ecco qua le sciarpe, sono ancora un pochino umidine, soprattutto questa, però più o meno ci siamo. Il tessuto è così. E questa è così. Questa rossa è quella che secondo me ha avuto più benefici da questo trattamento. E vi faccio vedere la canottiera. che come vedete continua ad essere un crop top, l'ho ormai, poverina, straziata. Allora, vi dico che secondo me il sfeltro sia su questa che sulle sciarpe ha avuto un effetto di ammorbidire la stoffa e renderla un po' più, sì morbida, un po' più flaffosa, non so come dire. Quindi questa qua, che di base aveva bisogno forse di una morbiditina dopo un po' che veniva lavata senza nessun tipo di particolare trattamento, secondo me è perfetta. questa, ovviamente dal video credo che voi non lo possiate notare più di tanto, però è più morbida, un po' meno rigido il tessuto e quindi molto bene. Questa, secondo me, bene, nel senso che comunque il tessuto è fatto proprio così, è tessuto proprio in questo modo un po' particolare, quindi insomma un po' l'effetto infeltrito lo aveva fin dall'inizio, secondo me. Forse all'inizio poteva essere ancora un po' più distesa la stoffa rispetto a ora, ma insomma, calcolando, sono circa 3-4 anni che la uso, mi sembra in buone condizioni. La cannottiera si è ammorbidita, ma la taglia non la ripresa, perché secondo me questo prodotto appunto ammorbidisce la stoffa, tende un po' a distendere, a tirar fuori un po' i mini filetti, renderli un po' appunto batuffolosi, ma in quanta taglia non mi sembra che la sia riuscita a fare un miracolo, ma secondo me questa povera cannottierina aveva passato troppe troppe sventure, non mi aspettavo che tornasse normale, magari qualche centimetro o più di lunghezza speravo che lo riacquistasse o almeno un millimetro, invece la taglia secondo me è rimasta ridotta. Comunque secondo me non è un fail questo prodotto, è semplicemente un prodotto molto buono per rendere il tessuto più morbido. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao! Ciao! Ciao!